Buongiorno, vi aspettiamo questo weekend alle aperture del Fai Seprio a Castellanza e a Darsano Seprio. Apriamo sette beni e qui in particolare ci troviamo alla Cappella Cerini di Castegnate nei pressi del cimitero di Castellanza. Una cappella privata che spesso è chiusa, non è aperta al pubblico e oggi e domani offriamo la possibilità di visitarla. Chiediamo un contributo per il recupero e l'attività di manutenzione dei beni del Fai e ringraziamo tutti i volontari, le associazioni, l'amministrazione e il prologo che ci hanno aiutato per organizzare queste giornate.